Presidente, dopo tanto lavoro finalmente verrà inaugurata la CAM, un anello di circa 200 chilometri fortemente evoluto dall'Unione Montana del Catria e Nerone. Certo, come si suol dire adesso, insomma, domani metteremo a terra questo bel progetto, uno dei tanti progetti che abbiamo creato con questa Unione dei Comuni, con questa strategia nazionale dell'area interna e quindi siamo veramente felici. Domani sarà l'inizio di una grande sfida perché poi come sai bene si inizia ma poi la vera sfida è poi continuare, mettere a regime il tutto, noi siamo pronti, domani siamo felicissimi perché crediamo molto in questo progetto, saremo a Sassoferato quindi per l'inaugurazione in buona compagnia, avremo come conduttori due grandi amici del ciclismo, Magrini e Gregorio. Oltre le loro due avremo anche il piacere di avere il fratello del compianto Michele Scarponi, Marco Scarponi, con il quale sicuramente parleremo come al solito di sicurezza stradale. È confermata la partecipazione di Giacomo Pieri? Certamente, per Giacomo un capitolo a parte perché è il nostro testimoniale, è la nostra strategia e lui non ci accompagnerà solo domani ma ci accompagnerà già da tempo e speriamo per tutto il tempo necessario per portare all'attenzione dell'Italia, delle marche dell'Italia e non solo questo magnifico territorio. Giacomo Zico rappresenta la nostra identità, rappresenta il nostro sogno, un ragazzo normalissimo con doti medie come lui stesso si definisce ma soprattutto quello che a noi ci lega con Giacomo è questa sua nuova professione, quella di mental coach e quella di dimostrare che con l'impegno, la programmazione e il mettersi in crisi quotidianamente anche in tutti i territori come i nostri si possono ottenere grandi risultati, quindi per noi è veramente un esempio.